Con un semplice esperimento vi mostreremo come un campo elettromagnetico fa ruotare un filo di rame. Per fare un tozzo abbiamo utilizzato magneti per generare il campo magnetico, in più abbiamo attaccato una pila che genera elettricità, messo insieme in forma il campo elettromagnetico. Mettendo sul filo di rame possiamo vedere che esso ruota. Ora, per vedere la presenza del campo elettromagnetico usiamo una semplice applicazione per i cellulari. Allora, come si può notare qua è normale, però appena si avvicina il campo elettromagnetico si può vedere che aumenta.